Il figlio dell'oro è venuto per sentire e darà la propria vita in riscatto da fronte. Il Signore sia come voi sensations. D' .... Norte! Il Signore sia comodo in ogni Spirit. O la Conconesimo dell'Annezione. Ecco in quanto preferissimo, Conocendo l'intenziero del Don Druco, Il dono prese un bambino, se lo dice vicino, e dice lui, ti accoglierai questo bambino del mio nome, accogli a me, e ti accogli a me, accogli a qualcuno che mi ha mandato, che in base del più piccolo lavoratore di voi, questo è grande. Giovanni, potrebbe essere la parola di sé, ma esserò abbiamo visto uno che spezzava del cuore, e che abbiamo venuto, perché non mi segue insieme con noi. Ma Gesù mi risposta, non lo rivedete, perché Dio nel mondo di voi, è per voi. Parola del Signore. Grazie.